ben ritrovati cari amici dal sottoscritto nicole da lucia e come vedete dall'immagine di copertina se c'è l'ebron james parliamo di los angeles lakers che questa mattina italiana gara iniziata alle ore 4 appunto i giallo viola hanno battuto allo stable center in san antonio sports per 129 a 102 la fonte quimici da spettatori 18.997 migliori marcatori ovviamente lebron james 36 punti de rozan san antonio 28 kuzma legas 18 andiamo alla cronologia dell'incontro primo periodo equilibrato finito 21 a 19 nel secondo prende a largo prendono a larghi lakers 51 a 41 continua il dominio nel terzo 87 74 e ovviamente anche nel quarto quindi partita contesa tra le due formazioni quasi a metà quale prepartita favoriti lakers 1 e 13 1 e 16 1 e 15 lakers ovviamente che continuano il loro cammino spedito verso il miglior piazzamento playoff difatti sia loro che poi i cugini fratelli clippers i lakers sono primi clippers sono secondi clippers con una gara in più comunque i lakers nelle ultime cinque anni hanno vinte tre ne hanno perse due i clippers ne hanno vinte quattro ne hanno persa una in termini praticamente pratici i lakers hanno 38 vinte 11 perse i san antonio spurs che sono in lotta per un posto in lissa nei playoff il terzo capo nelle ultime cinque partite decima posizione nel gruppo ovest 22 vinte 28 perse le lakers che saranno impegnati tra due giorni in casa contro gli houston rockets che sembra nel gruppo ovest occupano la quinta posizione che hanno quattro vinte una persa nelle ultime cinque 32 vinte 18 perse mentre i san antonio spurs affronteranno tra due giorni in trasferta i portland rail blazers che stanno lottando anche loro per un posto al sole nei playoff i portland sono leggermente leggermente sopra i san antonio al nono posto gruppo ovest con 23 vinte 28 perse per aggiungere altre informazioni lakers in casa ne hanno vinte 17 ne hanno perse 6 fuori casa i san antonio ne hanno vinte solo 8 ne hanno perso 16 comunque che dire concludiamo super lebron james come al solito los angeles lakers battono i san antonio spurs allo stable center 129 a 102 ci vediamo tra un paio d'ore per parlare di tennis perché tornei atp 250 continuano quindi a più tardi ciao